Ti trollo, ti trollo, ti trollo, ti trollo, ti trollo, oh my god! Ciao per l'interno ragazzi, oggi siamo su un nuovo video e oggi facciamo Juventus e Udinese con quasi le maglie uguali cercheremo di usare le stesse maglie e non le benji, l'ho messo io la divisa quasi dello stesso colore, quindi sarà più difficile riconoscere i nostri giocatori la differenza è questa, che io ho la striscia qui rosa e te no mamma mia ma è vero, sono quasi uguali i colori e chi ci capisce qualcosa? beh io capisco me l'hai rubata? ah ma c'è anche la modalità o libenza? si benissimo, guarda come corro no oh ah ho messo anche abilità zero, abilità portiere zero no giallo giallo ma io mi tolgo gli occhiali protettivi dello schermo se no vedo proprio allora qui ci confondiamo hai tirato sulla luna ah tra l'altro piove tra le altre cose oh iguain 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 che fa un assist su roneldo 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 segna sempre lui roneldo roneldo fai sempre iguain iguain ma quest'anno sei un po' scarso questo è un gol roneldo 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 oh eccolo io la rubata vai 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 no si no ah questo è fallo grazie ma forse anche il fuorigioco ve lo hai tolto si mamma mia siamo senza fuorigioco e anche il filtrante è molto lungo filtrante è lungo no vai ho lì benzi tira no quando faccio gol faccio una musichetta bello va bene passa di qui passa di là ma cosa stiamo giocando a calcio tennis no ok Ronaldo con le maglie dello stesso colore non si capisce proprio eh ma io capisco ma dove è andata la palla e palla mia passala ok Ronaldo Ronaldo su Iguain su Iguain no no ma perché non riesco a andare prende la palla tutto fermo non riesco a prendere la palla tira no dai dai palla ok aia 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 questo è rosso eeeh doppio cartellino no no giallo come ma perché perché avevi già un cartellino giallo aveva fatto il cartellino giallo aia aia si si non è che fai il rosso io quando gioco sempre a ultimate team faccio sempre i cross e faccio sempre i gol ok a portamuoto hai sbagliato aia aia si dispera ancora lasagna lasagna si ma lasagna quello che mangia le lasagne aia 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 ok voglio andare aia 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 capisco niente aia aia no no devi schiacciare piano perché hai il super tiro qui ma no ma no è un uomo aia 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 hai il super tiro dove aia 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 ma dove era la palla aia 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 ok tira no aia aia troppo forte ronaldo non tiro più con ronaldo lui fa i tiri di provvedenza devi tirare più piani eh ma ronaldo che tira forte perché abbiamo abilitato il super tiro ma dove va la palla ok dai adesso voglio aia 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 super goku super saiyan aia 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 ti trollo 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 adesso ti trollo 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 no secondo me in questa modalità super tiro bisogna schiacciare il cerchio proprio pianissimo ok un millisecondo altrimenti va su nel cielo la palla ok dai allora palla centrocampo per me il cagnolino e tiro che parata oppure tirare da centrocampo perché almeno così non va troppo su perché se tiri da vicino va troppo in alto vedi bisogna tirare da centrocampo sperando che il portiere non la paro oppure spazzare il portiere spiazzare il portiere sembrava palla a testa oppure palla matta ok io non mi ricordo da che lato devo fare gol dall'altro dall'altro di qua ma sei sicuro che i trolli ok bravo prendi lì che devi tirare sei secondi di l'ho 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 ma l'ho ah厘 beh sara pa altra anche io ti rotto arriva musso e la parra nelle parte basse ok non c'è il fuorigioco quindi dovrei riuscire pallonetto come si fa già il pallonetto si fa l1 cerchio l1 cerchio allora living sapata non va la palla sempre il giocatore di clash royale che fa la sostituzione entra bonucci no esce bonucci entra il rinvio per rugani ok ti faccio un altro gol tutti che tirano troppo su chissà perché lo bisogna tirare da fuori aria io tiro da fuori aria perché da vicino all'aria non si riesce a fare gol è entrato di male o mamma mia ma alex sandro è troppo forte potere 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 ok vado no non è male dov'è ai te lo dico te lo dico nooo pum dai dai siiii siiii ma che gol è questo autogol ma l'ha fatto ronaldo o chi l'ha fatto? ronaldo e l'autogol te l'hai fatto il numero 5 pazzesco eh autogol all'84 inesimo cagnolino cagnolino se lo say se faccio a goal Mamma mia ma la juventus non può ah no infatti vince la juve nooo PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE e guai del 3-0 lo sblocca lui lo sblocca lui e troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte troppo 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 forte almeno un gol lo voglio fare cagnolino cagnolino sono dietro di te cagnolino 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 mamma mia povero Udinese devo andare ultimo dai corri 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 dai corri dai corri ma cosa facciamo i 100 metri qui vai 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 stringhe no sono morta sono morta dove è finito dai vai vai vieni su aiuta ci sarà è proprio mamma vieni su ecco qua aiuta vabbè modalità pazzesca guarda cosa hai fatto fa la delict delict bucciaccia io faccio questo guardino rosso bucciaccia vieni dal capo io no vieni dal capo bucciaccia vedete il primo gol allora vediamo chi ha vinto sopravvivenza campione cri cri j tv 3 a 0 con la juventus modalità pazzesca di gioco ciao a tutti ragazzi iscrivetevi anche sul mio canale che si chiama primo ito andate a guardare la serie vita da nabo vi lascio il link in descrizione la parola brigade sembra ̀̀̀̀̀̿̀ żè̀̀̀̀̀し̀̀̀̀͂̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ṛ̀̀̀̀̀̀̀ Membersi